ben ragazzi buongiori fsilber oggi siamo qui trattene con questo mio nuovo video nel canale del clan è da veramente tanto tempo che non ci sentiamo più di qualche mese e sono tornato per un'occasione abbastanza speciale non per qualche gameplay assurdo perché ancora non sappiamo che il gameplay ce lo mettiamo sottofondo perché vogliamo più incentrare questo video sul commentary per il gameplay in base a quanto facciamo a trovare questo commentary lo adegueremo appunto alla trovata del commentary e sono qui con Redentive e anche Milano che ci sta registrando la chiamata solo per dirvi una cosa che è successa questo pomeriggio e per voi sarà ieri pomeriggio per più di 100 persone che stanno seguendo la nostra streaming e Redentive vi andrà un po' a spiegare di cosa si tratta perché io non le parli bene perché non è possibile che ogni volta succede questa cosa e infatti lascio proprio a Redentive per farvi spiegare il cosa allora intanto bella a tutti ragazzi sono Redentive e oggi sono qui sul canale del clan in questa situazione diciamo un po' spiacevole perché come ha già accennato comunque il nostro silver lui si trovava in streaming all'incirca verso le 5 e mezza 6 di ieri se questo video verrà caricato oggi che in teoria per oggi dovrebbe essere 16 febbraio se questo video verrà caricato oggi nel pomeriggio di ieri più o meno mentre silver era in streaming con circa 100 persone io stavo guardando la chat di twitch stavo vedendo che magari nessuno inizia a fare casino o cose del genere è successo un fatto abbastanza spiacevole ovvero silver è stato butterato per ben due volte parto subito col dire per quelli che non sanno cosa vuol dire butterato vi spiego velocemente butterare significa effettuare un attacco di vos che sta per denial of service distributi denial of service che è un attacco mirato a impedire l'accesso ad alcuni servizi all'obiettivo comunque prescelto è un attacco hacker che è illegale in tutto il mondo se non sbaglio e consiste nel inviare pacchetti a una connessione in questo caso quella di silver prendendo il suo ip tramite skype suppongo che sia stato preso che diciamo è anche abbastanza facile da fare come processo questo processo ovviamente è illegale e qualcuno si è divertito a butterare per ben due volte silver durante la streaming mandando conseguentemente offline la streaming e tutte le persone che ovviamente stavano seguendo la streaming stessa scusatemi la ripetizione abbiamo dovuto interrompere questa streaming e le persone ovviamente ci sono rimaste abbastanza male ho letto diversi commenti nella chat che comunque pregavano silver di tornare a fare la streaming però purtroppo per ragioni esterne a noi non abbiamo potuto continuare a fare la streaming tra l'altro purtroppo già ultimamente sto giocando veramente poco come molti di voi sapranno se mi seguo anche sul canale personale dove l'ho già detto miliardi di volte io ragazzi già ho poco tempo per giocare ultimamente quel poco tempo che ho lo so per streamare per fare contenti voi infatti ho visto che appena sono andati streaming più di 100 persone quindi più di 100 persone che mi seguono sono andati subito streaming a supportarmi comunque a vedere la streaming che sicuramente qualcuno ha ravvisto considerando che ci sono state più di 100 persone quindi sicuramente la maggior parte di voi ha anche assistito a tutto quanto questi live e appunto questa è una cosa che mi è un po' dispiaciuta perché io ho già poco tempo per streamare quel poco tempo che ho lo so per streamare per voi e mi è dispiaciuto staccare veramente subito dopo quanto sarà stato 40 una retta più o meno una retta di streaming ho dovuto staccare per questo problema purtroppo avrei voluto continuare per un'altra e due retta anche perché poi avevo da fare una particella che tra poco adesso devo uscire appunto e purtroppo niente solamente questo qua è solamente per aggiornarvi di questa cosa e per informare anche voi comunque di quello che succede durante le streaming perché mi pareva giusto informare voi e tutti quanti di questa cosa sia a me sia a Redentive anche perché sembra una cosa un po' scorretta da fare sia nei nostri confronti sia anche nei vostri confronti perché sia nei miei confronti perché comunque mi toccate la mia connessione che tra l'altro diventa anche instabile dopo che mi avete buterato devo anche spegnere e accendere il modem e ci vuole anche un po' di tempo prima che si stabilizzi la connessione quindi già questo è un problema poi ci sono miliardi di altri problemi che comunque non vi sto qui a spiegare e sicuramente è anche un problema per voi comunque stai salendo quella streaming avete dato quell'oretta libera per seguirla e ci rimanete male che subito dopo magari la stacco per appunto questo deficiente che si diverte a fare il bimbo nerd del cazzo su queste cose a buterarvi quindi solamente questo è solamente baggiornarvi e dirvi questo insomma ecco che poi aggiungo anche che comunque questo questo diciamo questo individuo che adesso non sappiamo se è italiano americano o straniero comunque cose del genere è venuto anche a scrivere in chat che cosa sta succedendo ovviamente è tutto in inglese perché non si sa cioè non abbiamo non sappiamo ancora bene se è italiano oppure americano non abbiamo supposizioni però comunque sta di fatto che è veramente un individuo di merda dopo che l'ho anche bannato perché comunque questo qua iniziava a insultare ha iniziato a provocare si è creato un secondo account provocando ovviamente noi di fare lo stesso con lui di mandare offline lui tutte queste cose sapendo che comunque questa pratica è illegale lui magari ci avrebbe anche magari sporto una denuncia se è italiano non so non so come funziona all'estero il sistema sta di fatto che sta di fatto che comunque questa situazione è abbastanza sgradevole e che sia capitata a noi veramente ci tocca da vicino quindi abbiamo deciso di fare questo video che come già detto è veramente diverso dal solito purtroppo per raccontarvi questo avvenuto adesso non so da quanto di sicuro stiamo facendo questo commentary se comunque voi avete dei dubbi scriveteceli ovviamente nei commenti noi vi risponderemo una piccola cosa che ci tenevo ad aggiungere è che questi attacchi di DOS comunque possono essere prevenuti solo grazie all'utilizzo di modem veramente potenti e che comunque costano veramente tanto quindi non possiamo permetterci di comprare a ogni singolo membro che strema questo modem per riuscire a per evitare di essere attaccato da qualche deficiente che comunque si diverte a fare questi attacchi io personalmente ho uno di questi modem che ha la protezione dall'attacco e funzionare funziona perché sono resistito a diversi attacchi però non tutti possono avere questo modem quindi non so passo la parola a Silver se ha da aggiungere qualcosa io qua avrei l'altro resto abbiamo letto nel commento quindi lo direi lo dichiarerei bello che chiuso solamente una cosa ragazzi vi diciamo che non sappiamo cosa mettere tutto il mondo come gameplay sicuramente metteremo un mio gameplay o comunque quello di un altro membro sicuramente lo vedrete nel titolo e nella copertina e niente qui ormai il video è finito vi lascio un bel big up un bel commento passate dalla pagina facebook insieme al canale del clan e tutti quanti altri cazzi in mazzo link in descrizione insomma ancora mi ricordo più quante so e niente ragazzi ciao a tutti un bel big up un bel commento e bella bella non ti piacciono i gtf figa ammazzati figa sparati quando arrivo devi farmi passare